buongiorno amici di genga informa e di youtube gilberto gattucci buon lunedì buon lunedì a tutti ha rifatto la neve sul monte sul io l'ho chiamata la cima scarponi cioè la zona dove si raggiunge castelletta il borgo il paese di castelletta c'è un po di neve però niente di preoccupante allora come promesso ieri ho incontrato una delle tante amiche di genga informa che abitano non lontano da me fabiana fabiano orfei che mi ha chiesto di dedicare una canzone ripetiamo un artista già l'ho cantato con un'altra canzone però questa volta mi ha chiesto rose rosse io ho scelto il tipo adesso sto un attimo solo che purtroppo mi è arrivato il programma della pulizia del telefono se no non mi fa andare avanti comunque pochi secondi e non vi preoccupate attacco la base adesso uno l'abbiamo fatto sì basta ok andiamo a trovare la base ho scelto quella meno uno cioè versione originale è abbassata di un tono adesso la cerco e comunque oggi internet funziona bene ecco rosse rosse karaoke me l'ho trovata subito allora fabiana questa è la dedica per te buon ascolto io non faccio la storia di massimo ranieri che non interessa a noi interessa la canzone il tempo anche oggi non è eccessivamente bello comunque dopo se volete seguite i fatti vostri sul rai 1 perché c'è il nostro amico è scritto anche a genga in forma è massimo murico che dalla dallo studio dei fatti vostri con giancarno magalli e ci aggiorna sulle condizioni del tempo abbiamo in questi giorni che sta piovendo abbastanza paura del fiume che e sondi che venga fuori speriamo di no però ricordiamo l'evento del 2013 no quando ha rovinato tanta roba e ci ha portato via anche la passarella di gattuccio a proposito se avete tempo leggete e il pezzo che ho pubblicato su genga in forma ricordando questo evento mi sono dimenticato che a tempo di guerra è una donna proveniente da castelletta siccome non c'erano protezioni sulla passarella perse l'equilibrio e si affogò proprio sulla passarella di gattuccio una donna di castelletta questo me lo raccontava nonno marino nonno marino che mi raccontava tante storielle però questa non è una storiella è una storia vera una donna ci perse la vita sulla passarella di gattuccio comunque e non affrontiamo questi eventi in maniera ampia perché non abbiamo tempo no abbiamo quei pochi minuti per poter registrare la canzone come sempre io controllo il volume sono dopo è troppo alta e dopo dopo fa casino ancora un secondo scusatemi ogni tanto amici allora io attacco è buon ascolto e ci vediamo dopo per i saluti quindi riscariamoci la voce come sempre rosse rosse per te Ho comprato stasera, ed il cuore lo sa, cosa voglio da te. L'amore non si muore, e non mi so spiegare, perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato, sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. E ormai non c'è più strada, che non mi porti indietro, amore sai perché. Nel cuore del mio cuore, non ho altro che te. Forse l'amore e le rose non si usano più. Ma questi fiori sapranno parlarti di me. Forse l'amore e le rose per te, ho comprato stasera, e il tuo cuore lo sa, cosa voglio da te. D'amore non si muore, ma chi si sente solo, non sa vivere più. Con l'ultima speranza, stasera ho comprato rose, rosse per te. La strada dei ricordi, è sempre la più lunga, amore sai perché. Nel cuore del mio cuore, non ho altro che te. Forse l'amore e le rose non si usano più. Ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rossi, rosse per te, ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa, cosa voglio da te. Benissimo, questa è la canzone che ho fatto stamattina. Sembra venuta bene, io perché certe canzoni le so fare bene, le ho cantate tante di quelle volte, amici miei, non mi faccio nomi dei personaggi con cui le ho cantate, perché ormai lo sapete. Però io quando la canzone mi riesce bene, sono veramente contento. Poi questa è una bella dedica, è una bella dedica. Mi è stata chiesta ieri quando Fabiana e il marito stavano andando verso casa, beh, mi fai una dedica. Fabiana, sai, ci conosciamo da tanti anni, non posso le rifiutare, no? Tanto non è una cosa difficile. Le dediche queste si fanno in un attimo, poi fanno piacere, no? Poi mi permetti di fare qualcosa, sai che mi piace cantare ogni tanto, ogni tanto mi piace cantare e canto. Allora oggi pomeriggio farò, farò essere domani, farò la canzone di Mina ritmata, diciamo, con cui si può anche ballare. Amici miei, non la faccio lunga perché se no ve stanco. Buona mattinata, il tempo è cattivo, stiamo a casa, io mi sto preparando il sugo, oggi faccio pancetta ai piselli. Quindi, buon pranzo, buona giornata e ci vediamo nel pomeriggio. Ciao!